L'Istituto Autonomo Case Popolari di Napoli ha inaugurato la sede del suo archivio storico, un luogo dove raccogliere il materiale che da oltre un secolo traccia la realizzazione delle case popolari a Napoli, in provincia. Un'immensa mole di materiale, recuperato, comprende luci di planimetrie e disegni che per la prima volta dovranno essere digitalizzati in modo da rendere la consultazione di facile accesso all'utenza. L'obiettivo è realizzare una banca dati che non solo sia fruibile per gli addetti ai lavori, ma per tutti i cittadini. L'archivio storico, realizzato in un locale abbandonato di proprietà dell'ente in via del Sebeto al quartiere Pendino, si arricchirà dei documenti, dei grafici e dei progetti realizzati in oltre 100 anni di attività degli ACP di Napoli e provincia. Grazie a una convenzione con il Dipartimento di Ingegneria Civile, Design edilizia Ambiente della Seconda Università degli Studi di Napoli, saranno laureandi, dottoranti e docenti esperti edilizia residenziale pubblica svolgere il lavoro di studio e catalogazione scientifica del patrimonio documentario storico dell'Istituto in stretta collaborazione con il personale dell'Istituto Case Popolari. All'inaugurazione dell'archivio storico hanno partecipato tra gli altri l'assessore regionale all'urbanistica, Armando Russo, e il presidente dell'IACP, Carlo Lamura. La nostra intenzione con quella delle università, con l'intervento a sottoscrizione di accordi specifici con le facoltà universitarie tecniche, è proprio questo, di avere qui dei ricercatori che possano digitalizzare tutto questo materiale in modo che possa essere immediatamente consultabile anche su internet, sul sito dell'Istituto, e quindi non lavorarlo perché sono progetti antichissimi che hanno un loro valore storico oltre che architettonico, quindi sarà tutto digitalizzato, tutto utilizzabile in rete, ma anche dopo conservati e archiviati potranno essere di consultazione di quanti ne esserano necessità o bisogno per motivi anche di studio. Grazie a tutti.